Ciao a tutti ragazzi come potete ben vedere neanche la DL Celibato mi porta via insomma dal pubblicare i video allora avevo un fine settimana programmato di video che ho girato prima di questa DL Celibato poi sono partito inaspettatamente perché in realtà dovevo fare una cosa di lavoro a Torino venerdì poi dovevo partire in montagna secondo me a farmi una camminata eccetera alla fine sono finito a Barcellona quindi è stato il delirio più totale ragazzi ringrazio i miei amici che hanno organizzato questa meravigliosa insomma questa meravigliosa gita ok breve ma intensa breve ma intensa quindi le ringrazio di cuore perché è una roba indimenticabile auguro ad ognuno di voi di poter insomma godere di una sorpresa così bella inaspettata ora però dobbiamo parlare di calcio perché il mio canale parla di calcio e non DL Celibato quindi ragazzuoli prima di iniziare ovviamente vi invito a mettere il like al video iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto insomma scaricate anche la PuanFootball oggi gioco la nazionale ci giochiamo una feta importante per la qualificazione ai mondiali per cui ci sarà anche il post gara della nazionale però però carissimi ora parliamo di Juve parliamo di Juve perché la domanda provocatoria che ho fatto è questa Allegri ha la capacità di valorizzare i giovani innanzitutto facciamo un breve excursus storico del cambiamento dal punto di vista della strategia della società la società mi pare che abbia già cambiato un pelo idea su un certo andazzo che avevamo in diversi anni fa l'acquisto di Ronaldo eccetera l'abbiamo pensato tanto alla toppare e a cercare di rafforzarci dal punto di vista del brand e del marketing e non solo anche a livello economico perché Ronaldo doveva essere un potenziamento economico della struttura Juventus però la società pare che sia tornata sui suoi passi perché ha capito che questa squadra non può competere oltre un certo livello dal punto di vista economico perché il contesto in cui stiamo ci obbliga a rimanere entro certe soglie di spesa perché la Juventus può essere anche il miglior club in Italia non si avvicinerà mai dal punto di vista economico a squadre come le inglesi o a squadre spagnole per cui dovrà costruire nel tempo una certa macchina organizzativa che sia in grado di sopperire alla mancanza di denaro è molto complicato, badate bene però queste cose sono superabili solamente con la competenza, con la programmazione e con l'organizzazione per programmazione io intendo che bisogna anche lavorare su un concetto di creazione di valore interno in che senso? La Juventus negli ultimi anni ci ha abituato ad acquistare dei giocatori già quasi pronti e questo spesso provoca magari dei risultati interessanti sul campo anche immediati ma a causa secondo me dei problemi dal punto di vista economico perché spesso i risultati del campo non ti ripagano del sacrificio economico che hai fatto per cui è da un po' di tempo che noi tutti auspichiamo un ritorno alla creazione del valore e che cosa intendo io per creazione di valore? Facile ragazzi, prendere dei giocatori che non hanno ancora chiuso la propria parabola di crescita ma li prendiamo un pelo prima andiamo a creare quel tipo di valore su di loro ma allo stesso tempo anche sulla squadra è là che si crea il valore la creazione del valore è per esempio un tipo di obiettivo che per esempio persegue con importanti risultati l'Atalanta l'Atalanta con pochi soldi prende dei giocatori ha un allenatore che riesce a valorizzare i propri giovani e riesce quindi a creare del valore questo valore riesce a rendere la squadra Atalanta appetibile per tanti giovani riesce a rendere l'Atalanta competitiva su più fronti ed è insomma questo che la Juventus dovrebbe fare l'Atalanta a differenza della Juventus ha anche meno possibilità sul piano commerciale di poter far leva su sponsor e altre cose cosa che per esempio la Juventus invece per storia, tradizione e risultati ottenuti sul campo riesce invece a ottenere sponsor un pelo più redditizi e via discorrendo però la Juventus deve riconcentrarsi a creare un po' di valore e la società mi pare che abbia sposato questa linea perché in realtà le ultime campagne acquiste sono state volte al tagliare i rami secchi a tagliare i rami che causano quello scompenso economico di cui vi ho parlato inizialmente e ripartire con un'idea chiara di squadra un pelo più giovane che insomma l'allenatore sia in grado di metterci mano per trarre ulteriore valore e questa credo che sia la strategia adottata ultimamente dalla società ma nell'ultimo anno ragazzi, non due o tre anni fa nell'ultimo anno c'è i giocatori che ha preso la Juventus McKennie, Chiesa, al di là del costo che hanno avuto comunque tutti questi giocatori hanno generato valore la vera domanda però che dobbiamo porci è Allegri è un allenatore in grado di tirar fuori del valore da questi giovani? ragazzi è complicato da dire per esempio adesso noi abbiamo un problema che Kuluseski come ha detto è anche il buon Romeo Nagresti Kuluseski è uno di quelli sacrificabili che se arriva la società che è in grado di disganciarti 30-40 milioni Kuluseski magari lo dai anche via lo dai anche via e senza troppi patemi perché non è riuscito insomma a esplodere nel contesto Juventus e questa è la domanda che mi pongo è Allegri perché non riesce a trovare la quadra? non l'ha trovata Pirlo è la quadra Kuluseski perché l'ha messo in più posizioni di campo Allegri riuscirà a trovare la quadra a tutti i giovani che arriveranno? questa è una bella domanda ed è l'incugnita probabilmente più grande del corso nuovo di Allegri alla Juventus perché la Juventus essenzialmente deve ripartire dal punto di vista ovviamente del gioco tattica, tecnica eccetera eccetera ma anche sul piano degli uomini ci sarà un ricambio importante e profondo alla fine di questi quattro anni di Allegri per cui la domanda è lecita perché se la Juventus a livello societario ha sposato la linea verde ovvero prendiamo dei giovani da far crescere serve altrettanto in campo un allenatore che sia in grado di valorizzare al massimo questi calciatori c'è da dire che il primo anno sta impattando duramente Allegri con diversi problemi impattando nel senso non buono del termine ma anche sta sbagliando alcune cose ma è normale squadra nuova giovani diversi deve trovare una quadra sul piano degli equilibri di gioco deve trovare una quadra su ogni aspetto di campo e quindi spesso lascia fuori dei giovani come Kuluseski Kuluseski che magari in un contesto diverso potrebbe esplodere e rendere a due o tre volte tanto però il contesto attuale della Juve porta Allegri alla scelta di tagliarlo fuori perché probabilmente in campo ha dei giocatori che danno più garanzie di Kuluseski e non vede perché debba in un certo senso stravolgere il modulo per far giocare questo ragazzo io quindi vedo sempre Kuluseski come colpo estraneo alla domanda ragazzi io vi dico Allegri ha saputo valorizzare dei giovani che erano congeniale a quella che è la sua idea di gioco attualmente siamo un brutto ibrido di situazioni perché non giochiamo mai con lo stesso centrocampo perché abbiamo delle problematiche sul piano dei giocatori che abbiamo non riusciamo a creare quel tipo di identità che ancora io pretendo da un allenatore come Allegri ovvero un'identità c'è però ancora non mi convince pienamente perché è un'identità che ha avuto non poche problematiche in questo momento, in questo periodo serve tanto tanto lavoro io mi auguro che la società a gennaio intervenga al centrocampo e utilizzi sempre quel tipo di strategia di creazione valore ovvero do un giocatore in mano ad Allegri e quel giocatore fra qualche anno mi vale anche qualcosina in più e riesco comunque a creare un po' di sostenibilità economica sul medio e lungo periodo al di là ovviamente dei risultati che devono arrivare è chiaro però quando si fa il nome di Zaccaria colpo gobbo è contento quando sente Chouameni al di là del costo che può avere questo ragazzo ma è un ragazzo che potenzialmente potrebbe valere poi due o tre volte tanto rispetto a quello che che chiede il Monaco in questo momento perché chiede 40-50 milioni ne abbiamo spesi 45 per Kuluseski ora sembrano delle cifre folli perché usciamo da una crisi economica stiamo iniziando ad uscire dalla crisi economica legata al Covid al fatto anche che non abbiamo potuto utilizzare lo stadio che insomma è una forte inestimabile di ricchezza per il club è un'altra voce importante nel bilancio delle entrate e quindi quando sento queste cose io mi gaso quando sento Wizzel per esempio mi vengono i brividi perché va contro esattamente quella che è l'idea progettuale della società per cui mi pare un nome non idoneo non idoneo per la Juventus la Juventus deve ripartire lo dice anche il nome dalla gioventù creiamo valore è questo che pretendo alla Juve per cui quando sento Wizzel no grazie Allegri deve iniziare anche a lavorare e a puntare sui giovani anche per la linea di successione che vi ho parlato sulla questione che è linea Bonucci ma soprattutto perché nel prossimo immediato futuro la Juventus deve utilizzare questa strategia di creazione dei valori sui giovani per essere sano il Bayern di Monaco è l'esempio che va seguito in toto per me perché il Bayern è una squadra leader del proprio campionato è una squadra che è appetibile per tanti giovani i ragazzi che vogliono insomma giocare in una squadra top ha un'organizzazione perfetta sta in un contesto non proprio ricchissimo né dei più ricchi in una situazione simile all'Italia però con la competenza è riuscita a colmare spesso il gap tecnico-tattico con altre squadre che magari hanno più potenzialità economiche e quindi questa è la strada che la Juventus deve seguire a livello dirigenziale io sono abbastanza tranquillo guardate bene paradossale sono meno tranquillo sul campo perché ad Allegri vedo certi atteggiamenti un po' di fastidio nei confronti dei giovani e finora ha valorizzato solamente dei giocatori che erano veramente forti poi lui ci ha messo il suo e li ha anche migliorati sia chiaro però voglio vedere questo tipo di lavoro fatto da Allegri perché Allegri nelle passate esperienze è riuscito a dare valore guardate bene la sua esperienza col Cagliari andatevela a rivedere che cosa è riuscito a fare a Cagliari tanti giocatori hanno ottenuto un certo grado di appeal e attenzione da parte di altre squadre Nainggolan per esempio per cui io mi auguro che Allegri adesso con la società prende giocatori congeniali non sulla base della situazione economica e basta quindi Witzel eh viene a zero esperienza ma sulla base anche di di cosa questi giocatori possono dare nel medio e lungo periodo è qua che dobbiamo ripartire è qua che dobbiamo ripartire quindi Allegri è chiamato alla prova più complicata creare valore per questa squadra perché dal punto di vista economico siamo inguagliati dal punto di vista economico il contesto Italia non è dei più favorevoli per cui la ricchezza dobbiamo crearcela noi in che modo? con la competenza con il lavoro sul campo e con i risultati che ovviamente vanno a dare valori ai risultati a quel che il giocatore è in grado di fare se un giocatore è forte ma vince anche è ovvio che dal punto di vista economico questo giova ancora di più alla Juventus però io credo che si debba ripartire dalla gioventù la dirigenza sta iniziando a fare questo passo credo che anche Allegri dovrà iniziare insomma ad andare verso questa direzione ripeto la creazione del valore attualmente è il primo obiettivo che la Juventus deve raggiungere nel medio e lungo periodo che deve cercare di insomma di avere là come missione la nostra missione è questa qua perché il contesto in cui stiamo non è dei migliori per cui breve riflessione ragazzi breve idea su quello che è il mercato su quel che verrà a gennaio sui nomi che si stanno facendo si è parlato di di Conè ne parleremo magari anche Conè approfondiremo questi nuovi nomi che stanno uscendo c'è Conè c'è un giocatore del Mitty Helland ci sono diverse voci su centrocampisti mi piace mi piace mi affascina il fatto di prendere giocatori semi sconosciuti e renderli poi dei grandi calciatori Zaccaria non è sconosciuto però insomma è uno di quei nomi che amme Garba quindi mi auguro che ripeto la Juventus faccia delle scelte ben pensate nell'ottica di creazione appunto di valore aspetto le vostre opinioni sotto nei commenti iscrivetevi al canale mi raccomando ragazzi è nulla ci vediamo stasera va bene per il post gara della nazionale che sta a Belfast contro l'Irlanda del nord un abbraccio ragazzi ciao belli grazie